cari amiche ed amici mi sono ricordato che oggi è l'otto febbraio allora quante quanti di voi e si domanderanno sentendo questo ma che significa che importanza beh mi sto filmando con il cellulare con un'applicazione per caricare velocemente il video perché saranno soltanto dei saluti a tutte e tutti voi care amiche ed amici volevo fare questo video ieri che era il 7 febbraio perché esattamente il 7 febbraio 2013 fondavo il mio canale di youtube sun ten chan quindi sono passati 13 14 15 16 17 il 7 febbraio 2017 il mio canale ha fatto quattro anni quindi adesso in pratica a quattro anni e un giorno volevo quindi ringraziare tutte e tutti voi che mi seguite che mi supportate che mi sopportate che diffondete i miei video che mi aiutate a crescere mi raccomando grazie a tutte e tutti voi vi saluto questo video neanche lo posterò nei social network giusto per salutarvi arrivederci e grazie di seguirmi il mio canale compie quattro anni il 7 febbraio 2017 ciao